La storia di Teramo e del Teramo Calcio abbraccia il Teramo che riparte con la nuova gestione della famiglia Ciaccia. Si è tenuta questa mattina al Parco della Scienza della città la presentazione del rinnovato management bianco-rosso alla presenza di una folta platea. C'erano le istituzioni locali con il sindaco Gianguido d'Alberto padrone di casa accompagnato dal Consiglio Comunale. C'erano volti storici per lo sport cittadino da Enzo Montani agli ex presidenti Cerulli Relli e Franco Iachini passando per l'artista Marco Pace i cui dipinti hanno fatto da cornice alla giornata. C'era il presente e il futuro il nuovo cda composto da Massimo Chierchia amministratore delegato con delega alla presidenza il direttore generale Luigi Coni e i consiglieri Gianmarco Ciaccia Giorgia Ciaccia e l'avvocato Gerardo Spaltro. C'era la tifoseria rappresentata dal club bianco-rosso del presidente Bracalenti che ha manifestato la vicinanza dei sostenitori a prescindere dai risultati che verranno come è sempre stato nella storia del Teramo. Si parte per una nuova avventura ripartendo dalla storia locale e dalla storia sportiva due percorsi che si sono sempre incrociati come ha ricordato il primo cittadino e che sempre lo faranno portando il nome di Teramo e dell'Abruzzo in giro per l'Italia. Presenti anche molti nuovi partner di livello nazionale che si inseriranno nel territorio portando novità e idee volte a fare squadra col territorio stesso. Svelate le nuove divise che rispetto a quelle viste fin qui avranno in aggiunta il marchio della Edel Green Italia, uno dei marchi portati dalla cordata Ciaccia. Organizzazione, intrapendenza, voglia di fare calcio sono i tre ingredienti che aprono una nuova fase della storia del calcio terramano. E dal patron Davide Ciaccia ecco la presentazione di un progetto nuovo per l'Abruzzo, quello intento a lasciare il 10% della società alla comunità che sarà rappresentata nel consiglio di amministratore da un proprio delegato. Beh è una cosa a cui teniamo molto nel senso che dare poi dei segnali tangibili di quello che si dice è diverso quindi regalare alla città un pezzo della squadra e come ho detto nel mio intervento vorrei se riesco lasciarla in modo perenne, cioè trovare una forma tecnica che permetta che questa percentuale e questa persona che rappresenta la città sia sempre presente nella Terramo Calcio a prescindere dalle gestioni e dai presidenti che passeranno.